Ciao ragazzi, dopo tanto ci ritroviamo, ci troviamo su questo canale per parlare di Riot City, un picchiaduro 2D a scorrimento sviluppato dalla Western nel 1991. Il titolo io non lo conoscevo, mi è stato segnalato e devo dire che è un gran bel gioco. I livelli sono solamente 5, però sono molto lunghi, infatti il gameplay dura all'incirca 58 minuti e il livello di difficoltà è abbastanza alto. Magari la grafica non sarà delle migliori, però devo dire che si fa davvero giocare. I nemici sullo schermo spesso sono tantissimi, il livello di difficoltà è abbastanza alto, però il gioco è davvero, davvero gradevole. Ve lo consiglio se non l'avete mai provato. Prima di arrivare al gameplay, come sempre vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. E dalla settimana prossima dovrei tornare nuovamente nella mia dimora fissa, e quindi cercherò di pubblicare più video. Nel frattempo, vi lascio al gameplay. Alla prossima, ciao ciao! Alla prossima! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.